Allora, un applauso ai tecnici ragazzi, è meraviglioso. Salvini ho parlato, della Meloni ho parlato, del Cognato ho parlato, non ci resta che il compagno. Andrea Giabruno, cioè nel senso di fidanzato, non di compagno, compagno, figurati. Quindi, compagno, compagno, l'avrebbe già evirato nel sonno. Comunque io mi chiedo, questa settimana la Meloni ha smaronato sulla sanità, l'olobrigida, detto quella del vino, come gruppo familiare, potevano finirla lì, no? Cioè, non è obbligatorio che tutte le settimane, proprio tutti, 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 debbano dire la loro minchiata, giusto? E invece no, si muovono in gruppo, tutti insieme, come pecore durante la transumanza. E ho detto pecore, perché terrei a sottolineare che il termine transumanza, qui sul 9, abitualmente lo usiamo per gli ovini al pascolo. Andrea Giabruno, nuova gaffa, la migrazione in Europa, una transumanza. No, per carità, poi si è scusato, intendiamoci, è andato a casa, ha sbirciato Wikipedia e non solo ha capito che migrazione e transumanza non sono sinonimi, ma anche che dai nigeriani non si ottiene il formaggio. Ecco, ma non è tutta colpa sua, è un po' il linguaggio che usano da sempre in famiglia, ragazzi. Già nel 2015, anche la sua signora faceva confusione, me lo fai vedere. Se sei nomade, devi nomadare, poi quando hai finito di nomadare, transumi e vai. Giorgia Meloni, Matrix, Canale 5, 22 aprile 2015. Vedi che ha detto transumi? È un verbo che usavano già in famiglia. Poi scusate, scusate, nomadare. Io quando l'ho sentito mi sono chiesto, ma esiste il verbo nomadare? Ora, io non posso farvi vedere il video in cui la Meloni lo dice perché Mediaset custodisce gelosamente le perle dei grandi statisti e i loro congiunti. Ma la Meloni in questo caso, più che spinta da flato politico, si ispirava di più alla soralella. Se sei nomade, allora non devi nomadare. Tra l'altro, se io avessi scritto nomadare in un tema alle medie, sarei stato nomadato dal preside. Poi cazzo, sono andato a vedere sulla Trecani e nomadare altro non è che un neologismo attestato per la prima volta in un articolo del Corriere della Sera del 2006. Allora, mutare spesso residenza, nomadare. Mutare spesso residenza, spostarsi continuamente. Già attestato nel Corriere della Sera, al 3 giugno 2006, cronaca di Roma, Ernesto Menicucci. Ma cazzo, ma allora si possono creare neologismi. E allora creiamone uno insieme. Lo creo io, dai. Trecani. Mi dispiace se oltre a nomadare mettiamo anche questo neologismo. Meloninare. Cioè, ovvero, colei o colui che parifica gli immigrati ai ruminanti dal peggio, però facendo cabaret come Pio e Amedeo. E infatti, non a caso, lei è andata a vederli. Pio e Amedeo. Perfetto. Quindi Meloni. Non ce lo meloninare troppo, perché altrimenti qui finisce tutto a giambrunate. Oh, tre cani. Segnati anche questo. Non ventati due. Meloninare e giambrunare. Regia, mi fai, mi transumi, scusami, il collegamento con Rete4. Me lo fai vedere un attimo.